Luisa Di Cristo, neoportavoce dei Verdi di Scalea, come si sente in questo nuovo ruolo? Buongiorno a tutti innanzitutto, è così la mia nomina che mi è stata data da poco tempo, la gente che ha creduto in me, nelle mie lotte, mi ha ancora, diciamo, a primo impatto, ancora mi è così un mondo, diciamo, non nuovo, perché comunque le lotte insieme all'ex portavoce Palmiro Manco, insieme a Antonio Pappaterra, Giulio Santo, Antonio Maiuri, Mauro Filippelli, non vorrei dimenticare qualcuno, secondo me poi si fanno i nomi, Sandro Bergamo, si dimentica sempre qualcuno e non è sempre poi piacevole per chi ascolta. Io penso che essere così amante della natura, dell'ambiente, è una cosa che uno deve sentire dentro, perché non si può improvvisare così un ruolo all'improvviso. Io amo l'ambiente, come amo la natura, come amo il mio paese, quindi penso che per ognuno di noi l'ambiente deve essere messo al primo posto, soprattutto alle tematiche, perché poi alla fine è l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, tutto all'insieme, il nostro ossigeno, insomma. Io cercherò, mi impegnerò sempre di più per contribuire a far sì che Schalea diventi sempre più vivibile su quest'ambiente qua, perché purtroppo in questi ultimi anni l'ambiente di Schalea piange un po'. Non vorrei delungarmi su questo perché penso che ormai sono sotto agli occhi di tutti, sotto anche l'olfatto delle persone, parlando poi della discarica, del mare, del depuratore, di questi impianti selvaggi, di telefoni a mobili, messi così senza un criterio, messi così per favoritismi, mi sembra un po' troppo. Noi come Verdi, come Palmiro Manco, come nostro gruppo, all'epoca abbiamo chiesto, quando abbiamo fatto le lotte contro questo elettrosmog, un polo tecnologico dove poter spostare questi impianti, dove mettere tutti in un'opposta localizzazione con persone esperte nel settore per fare in modo che la popolazione non è poi sottomessa a queste cose, perché è vero che il cellulare ce l'abbiamo tutti, però queste poi sono scelte personali, come per chi fuma, chi fa abuso di alcol. Però poi un impianto messo vicino alla tua abitazione, quella è un'imposizione che ti danno. Per quanto riguarda la salute, io ci terrei salvaguardare i cittadini, perché bisogna salvare, salvaguardare le persone prima, piangere dopo, secondo me non serve. Poi Scalea, io non è perché lo voglio vantare, perché il mio paese, io ci sono nata, io vivo qui e lo amo, è forse la città più bella che abbiamo qui nel sud. Vedere alcune cose, almeno a me, fa un nodo in gola. Vorrei, non so, questi alberi sono stati poi tolti senza un criterio, con una malattia che è uscita fuori, senza poi essere ripiantati, perché io penso che un albero, comunque un essere vivente, come un animale, è comunque evacurata, se c'è una malattia evacurata. Poi se non si è possibile, normale, non è che non si può fare niente per le persone, io penso che neanche per un albero, però non è così che poi bisogna trattare le cose. Comunque l'ambiente, noi ci viviamo qui e ognuno di noi poi comunque dovrebbe essere partecipe, anche a buttare una piccola carta nel cestino, perché poi alla fine ognuno di noi deve essere poi quello che porta avanti la sua città, il suo paese nel migliore dei modi. Lei negli anni ha portato avanti delle battaglie molto dure, tanto che è stata soprannominata la passionaria dell'Alto Tirreno Cosentino. Questo suo ruolo e questa passionalità che mette ovviamente nell'ambiente, lo porterà avanti anche come portavoce dei Verdi di tutto il comprensorio altotirrenico? Sì, io lo porterò avanti, perché ripeto, per me è una cosa che sento dentro. Noi purtroppo abbiamo fatto tante battaglie che poi alla fine non hanno portato a poco a niente, perché poi non si viene ascoltati dall'altra parte, sembra che si vuole fare sempre quello che dice no, invece non è così. Noi per la discarica avevamo già preannunciato quello che purtroppo si sa che può portare una discarica. per le altre cose, per le bonifiche dei canali, per poter avere almeno pure nel passaggio di Scalea quell'odore del depuratore. Ci sono cose spiacevole che io penso che si potrebbero sistemare in qualche modo. Io voglio attraverso questo emittente ringraziare anche Radio Guane che mi dà la possibilità di parlare. adesso a voi, porgere gli auguri al nuovo sindaco di Scalea, il signor Basile, che faccia in modo adesso lui di ripulire in questo senso un po' la città, perché una città più pulita e più vivibile, perché anche noi abbiamo poi da accogliere degli ospiti. All'ospite bisogna far trovare, come quando si viene in casa, una casa pulita, una certa accoglienza. Non si può presentare poi una cortolina così non bella, ecco.